Amici di Tecnologia Su Misura, ben ritrovati da Andrea. Oggi continuiamo a parlare di Mediaserver. Nel primo video abbiamo visto i file multimediali, quello che quindi i Mediaserver trasmettono. Oggi invece proprio scopriamo il loro funzionamento e spieghiamo la rete LAN. Perché per capire i Mediaserver dobbiamo capire la rete LAN. Apriamo la mappa concettuale e vediamo che i Mediaserver lavorano all'interno della rete LAN. E quindi vediamo cos'è questa rete LAN. È la rete locale, la Local Area Network. Cos'è la Local Area Network? Che è la rete che crea il router. Quindi sostanzialmente la rete locale è costituita da un insieme di dispositivi, che sono i nostri dispositivi, i nostri computer, smartphone o tablet o stampanti, che sono tutti connessi al router. Come sono connessi? Il router gli assegna degli indirizzi IP locali, ovvero privati. Questi indirizzi IP possono essere di diverse classi, per esempio 192.10. Quello che differenzierà ogni dispositivo sarà la cifra finale. Il router avrà il numero 1 nella cifra finale, tutti gli altri avranno cifre crescenti, fino a 255 per esempio, quando si ha questo tipo di indirizzo. Quello che conta è che tutti questi dispositivi, quindi questi host tecnicamente, sono connessi al router, perché il router gli assegna gli indirizzi. Via Wi-Fi o via Ethernet sono connessi, quindi con dei cavi, se sono dei computer fissi, cavi Ethernet, fast o gigabit, oppure via Wi-Fi con diversi tipi di collegamento Wi-Fi in base a quello che supporta il router e in base a quello che supporta il dispositivo, questi device, questi host mobili, saranno connessi al nostro router. Quindi la rete locale, che sia Wi-Fi o che sia Ethernet, rappresentata ai nostri dispositivi, connessi al router, tramite diversi indirizzi IP privati che il router gli assegna. Ovviamente tutti questi indirizzi IP privati, che possono per esempio essere 10, se i nostri dispositivi sono 10, usciranno su Internet, sulla rete globale, con un unico indirizzo IP pubblico, grazie al NAT. Questo permette quindi a tanti indirizzi di uscire con un unico indirizzo IP pubblico, perché gli indirizzi IP pubblici, comunque gli indirizzi IP della classe IPv4, non sono infiniti, e quindi il NAT permette di uscire con un unico indirizzo a tanti dispositivi della rete locale. Dove si esce? Si esce su Internet, sulla rete globale, tramite il modem. Il router infatti assegna gli indirizzi all'interno della rete locale, ma il modem che con la modulazione e demodulazione di un segnale analogico, quindi del doppino telefonico, come interfaccia, beh si appunto mette in comunicazione con la rete esterna, quindi se il modem cura la rete esterna, il router cura la rete interna. Tutta la spiegazione del NAT e degli indirizzi più pubblici e privati sono spiegate nel video di Valerio sul funzionamento di Internet, che vi invito a vedere, perché sono spiegati meglio sicuramente di come ho fatto io adesso. Andiamo invece a vedere il media server e quindi abbiamo capito la rete locale e abbiamo capito che il media server può essere per esempio installato su uno di questi due computer e quindi la comunicazione nella rete locale è indipendente da quella di Internet. Cioè per un passaggio di dati nella rete LAN non ci deve essere Internet. Ovviamente per connettere questi dispositivi a Internet ci deve essere ovviamente un collegamento, ma la rete locale, quindi un router, fa funzionare una rete locale indipendentemente dalla presenza no della rete esterna, cioè di quella globale. Infatti un media server come Plex non ha necessità di Internet per funzionare, perché parliamo solo di rete locale. Quindi un media server è installato su un computer. Quindi quando un computer diventa un media server, quando viene installato sopra, Plex o Serviglio, o un'altra applicazione che fungerà media server. E tutti i client, quindi tutti quelli che ricevono dati multimediali dal nostro media server sono gli dispositivi riceventi, che ricevono in streaming, in streaming multimediale, i dati, quindi i file multimediali che sono presenti sul nostro media server. Questo è la panoramica generale. Ora invece vediamo un esempio specifico per capire meglio. Spostandoci nella seconda parte della mappa concettuale vediamo che abbalzano subito all'occhio i file multimediali. Infatti i file multimediali sono solo qui, in una vignetta. Perché? Perché il vantaggio di creare un media server è che tutti questi dispositivi, vedete, non hanno la vignetta dei file multimediali. Perché? Perché i file multimediali sono presenti solo in un posto. Cioè i video, i film, le serie tv sono presenti in un unico posto ma vengono trasmessi a tutti gli altri dispositivi della rete locale in streaming. Quindi con uno streaming dati, questi di macchine, questi terminali, anche se non hanno fisicamente i file multimediali su di loro, possono andare a vederli in streaming in remoto. Perché questo server trasmette i dati a loro che sono client, come vedete dallo schema generico che avevamo fatto prima. Quindi questo server è DLNA, sigla che adesso vediamo cosa significa, trasmette i file multimediali in streaming a questi client. Loro non occupano memoria, non occupano spazio, ma vengono solo a prendere i file che vengono trasmessi. Questo è il vantaggio di un server multimediale. Io qui ho anche citato gli indirizzi IP, quindi il fatto che comunque in una rete locale quando c'è una comunicazione di questo tipo, di solito è sempre meglio assegnare gli indirizzi IP in maniera fissa. Infatti normalmente il router assegna gli indirizzi IP, cioè questi, in maniera automatica. Quando un dispositivo si collega alla rete richiede al router un indirizzo e l'indirizzo gli viene consegnato. Invece è meglio andare in ogni apparecchio, quindi macchina per macchina, terminale per terminale, a dire quale indirizzo IP quell'apparecchio deve ottenere. Quindi andiamo nelle impostazioni di rete del Mac, del computer Windows, del tablet, eccetera. Gli diciamo che indirizzi IP deve avere, che poi questo ovviamente sono cifre che ho, sono numeri che ho messo a caso. Possiamo scegliere noi gli indirizzi IP che preferiamo da assegnare ad ogni dispositivo. L'importante è che soprattutto il server abbia un indirizzo IP fisso. Infatti tutti riceveranno informazioni da lui, lui deve avere un indirizzo IP fisso. Questi si baseranno su una comunicazione che richiederà appunto informazioni a questo indirizzo IP. Questo scambio di informazioni come avviene? E ora arriviamo appunto alla spiegazione di quel DLNA di cui prima avevo parlato. Infatti il DLNA è una sigla che sta a significare un insieme di regole, un insieme di standard comuni che le aziende che lavorano nell'ambito delle reti hanno stabilito affinché ci sia una comunicazione efficiente e ottimale all'interno della rete locale dal punto di vista multimediale. Quindi perché un media server di DLNA e alcuni dispositivi rispetto ad altri supportano DLNA? Perché si sono conformati a questo standard. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno della rete comunicheranno con le stesse regole e quindi comunicheranno meglio presumibilmente. Queste regole quali sono in termini pratici? Sono l'utilizzo l'apertura di certe porte rispetto ad altre come con l'OPMP in particolare. Questi tre TCP e PMP sono protocolli di rete del quale DLNA si serve per applicare quelle famose regole. L'IP l'abbiamo già ben spiegato è l'Internet Protocol e quindi questi sono gli indirizzi P quindi l'Internet Protocol ovvero il fatto che ogni dispositivo nella rete ha un indirizzo che gli è assegnato dal router e quindi la comunicazione non avviene tra questi indirizzi sono gli indirizzi che comunicano fra loro e attraverso cosa comunicano? Comunicano attraverso le porte le porte TCP Valero nel video di internet aveva spiegato le porte TCP e le porte UDP quindi vi rimando al suo video quello che a noi ci interessa sapere adesso è che per esempio Plex lavora sulla porta TCP 32400 infatti tutte le porte sono numerate bene questa porta è vincolante per il funzionamento dell'applicazione e come viene aperta? viene aperta grazie all'OPMP o comunque manualmente se l'OPMP non lo fa perché? perché l'OPMP è un protocollo di rete che ha la funzione di aprire le porte in automatico quando servono un'applicazione a un dispositivo quindi che voi state utilizzando Plex per aprire una certa porta che voi state utilizzando per esempio la playstation per giocare e alla playstation servono delle porte per giocare su playstation network l'OPMP si occuperà di aprire queste porte che servono alle applicazioni o ai dispositivi quindi in maniera intelligente assume questa funzione il DLNA quindi si serve di questi protocolli per applicare queste regole e per avere una comunicazione ottimale all'interno della rete locale l'unica cosa di cui accertarsi bene è che appunto i dispositivi all'interno della rete supportino il protocollo di rete OPMP e il sistema di regole di LNA il fatto è che i media server sono media server di LNA quando trasformiamo un computer in un media server quindi è meglio se tutti i dispositivi supportano questo insieme di regole e supportano anche il protocollo OPMP perché aprire le porti in automatico capiamo che per la comunicazione efficiente per il passaggio di dati è sicuramente meglio che andare a aprire manualmente le porte effettuando una mappatura detto questo il discorso è che prima di tutto il router deve supportare il DLNA all'OPMP perché poi i dispositivi le macchine i terminali moderni supportano questo protocollo di rete oppure il DLNA di conseguenza vediamo se il router è certificato DLNA e se supporta l'OPMP potrà esserci una comunicazione con piena compatibilità bene sperando di essere stato chiaro di non essere dimenticato niente questa è l'ultima cosa che volevo dirvi ora chiudo questo video e noi ci rivediamo per proseguire il viaggio nei media server e poi anche con altri appuntamenti sempre qui a tecnologia su misura vi ringrazio e vi saluto un ciao da Andrea